In questa puntata, resistere alla crisi, l'esempio di Marradi. Accordo sulla tramvia che collega Firenze a Sesto. Sanità, la residenzialità in Toscana. La solidarietà toscana per il popolo ucraino. Premio Innovazione Toscana. Lo stabilimento di Marroni a Marradi riparte con nuove tipologie di produzione, un esempio di come si resiste alla crisi. Era un impegno che avevamo preso l'8 di marzo quando abbiamo premiato, giorno della festa della donna, le lavoratrici di Marradi, che hanno resistito e che sono riuscite a ridare dignità al lavoro. È stato bello entrare in fabbrica insieme ai colleghi Benucci e Tozzi. Poter vedere che lo stabilimento è ripartito, è ripartito nel pieno delle sue attività, ma che sono in corso anche investimenti per nuove tipologie di produzione. Penso che il compito della politica sia sempre quello di restare all'altezza degli occhi delle persone, le donne e degli uomini che vivono le sofferenze. Oggi questa giornata sul territorio di Marradi è voluta partire proprio da qui, per dare l'ennesimo segno di vicinanza alle lavoratrici dell'ortofrutticola Mugello e per ringraziarle davvero per la loro battaglia che è anche la nostra battaglia. Tanti consiglieri regionali, io tra questi, abbiamo visitato più volte questo luogo durante il presidio nei mesi difficili. E oggi visitarlo alla ripartenza, quando dentro sono tornati gli uomini e le donne a lavorare, quando si è ripreso un ciclo produttivo, è un motivo di grande gioia e di grande soddisfazione. Le istituzioni hanno il dovere di stare vicino alle realtà in crisi, noi abbiamo cercato nei nostri limiti di farlo ed oggi abbiamo visto che con l'impegno di tutti si possono risolvere e vedere di nuovo il lavoro dentro questo stabilimento è un motivo di grande soddisfazione per questa terra e per tutta la regione toscana. Una battaglia importante è quella delle lavoratrici della fabbrica di Marradi, è una realtà fondamentale per il territorio, questo vuol dire che quando si combatte per il lavoro arrivano dei risultati. Adesso speriamo nella continuità produttiva, speriamo davvero che questo territorio possa mantenere un centro per l'occupazione che possa avere una prospettiva per il futuro. Credo oggi una testimonianza importante, il Consiglio regionale e i consiglieri devono essere sul territorio, devono portare la loro vicinanza alle realtà territoriali, soprattutto quando si parla di comuni, come quello di Marradi, di comuni che sono nelle aree interne e che quindi hanno bisogno in questo momento di un'attenzione particolare. Quindi auguriamo davvero che buona fortuna a tutte queste lavoratrici e speriamo davvero che questo sito possa continuare a mantenere la propria storia e la propria struttura. Si lavora guardando al futuro, è stato un periodo davvero drammatico per il nostro territorio, ora finalmente entrare in una fabbrica aperta con le donne e gli uomini che sono al lavoro da speranza. Ovviamente il lavoro, come si è sempre detto, non è finito, ci continuerà a monitorare, guardiamo al futuro, ma guardiamo al futuro con la speranza di una fabbrica finalmente aperta. Da Sesto a Firenze, passando per l'aeroporto, senza dover scendere dalla tramvia e dal polo scientifico, attraverso un braccio ad hoc con le rotaie che raggiungeranno il nuovo liceo Agnoletti. Eccolo l'accordo sul percorso dell'ultima tramvia in gestazione. È molto importante l'accordo che abbiamo raggiunto, naturalmente la Regione Toscana che guida la Commissione in Vigilanza, del resto la Regione Toscana è quella che mette i soldi sostanzialmente, e quindi con il Comune di Firenze, con il Comune di Sesto Fiorentino, con una costante e approfondita informazione l'Università di Firenze, si è concordato quello che sarà il tracciato su cui sviluppare la progettazione, perché da Firenze a Sesto, passando per Peretola, dove non ci sarà una rottura di carica, cioè scendere dal tram numero 2 della linea per salire su quella di Sesto, ma sarà una continuazione della linea 2, si arriverà con un tratto sufficientemente veloce, che quindi non consenta tante deviazioni, al centro di Sesto Fiorentino. Ci sarà una fermata dentro il polo e sarà chiamata polo universitario scientifico di Sesto. È una valutazione quantomeno bizzarra, quella che abbiamo letto oggi sui giornali. Noi abbiamo costruito un polo scientifico di eccellenza a Sesto Fiorentino nel deserto. Quando è stato realizzato il polo scientifico a Sesto Fiorentino è stato realizzato nel nulla. Sembrava veramente un film di fantascienza, le prime immagini di un'università costruita nel deserto. E la risposta era sempre la solita, aspettate perché tra qualche anno arriverà la tramvia, perché tra qualche anno arriverà la tramvia e questo polo non sarà più nel deserto, ma sarà collegato con la città. Stamattina, a parte che abbiamo perso dieci anni per strada dalla realizzazione alla messa in ponte dei lavori, stamattina apprendiamo che la tramvia non andrà al polo scientifico, ma andrà in un liceo lì vicino. Questa è la mancanza assoluta di progettualità della quale noi accusiamo la sinistra toscana. Cioè tu realizzi una cattedrale nel deserto perché un domani sarà servita la tramvia, arrivi dieci anni dopo e decidi di cambiare il percorso della tramvia. E la mandi giustamente a servire un liceo lì vicino, ma non il polo scientifico, e quindi resterà una cattedrale nel deserto. Io ho sentito parlare di bus. Cioè nel 2022 la regione toscana immagina di realizzare un'infrastruttura importante, pesante, impattante, come la tramvia che collega Peretola con Sesto Fiorentino, portarla a Sesto Fiorentino di fronte a un liceo e da lì far partire dei bus che portano gli studenti universitari verso il polo scientifico costruito. Non è che l'avevamo lì dall'epoca romana, l'abbiamo costruito dieci anni fa nel deserto. Cioè a me sembra di sognare e purtroppo invece sono le parole di tre stavanti mattina dal governatore della Toscana. Sanità, bilancio della residenzialità in Toscana. Rispetto al criterio della residenzialità conta a mio giudizio quello che è il profilo del territorio di ASL. La Toscana ha tre ASL territoriali, da un lato l'area centro Firenze-Prato-Pistoia, dall'altro l'area sud-est Siena-Rezio-Grosseto, dall'altro l'area della costa e del nord-ovest, e quindi Livorno-Pisa-Massacarrara-Lucca. Ecco, nelle ASL territoriali chi è residente ha il carattere chiaramente di priorità e di cura. Non ci può essere all'interno di un ASL una preferenza su quello, quell'altro comune, provincia, territorio, non sarebbe corretto. Quindi ora io verificherò le normative, può darsi, vi siano effettivamente delle normative a cui si è fatto riferimento, antecedenti alla riforma delle ASL e quindi si rimedierà, perché naturalmente bisogna che tutti i cittadini della stessa ASL abbiano gli stessi diritti. In questo caso Livorno-Pisa è la stessa ASL, quindi non c'è, non ci deve essere, anche su queste cose, il campanilismo della priorità territoriale fra città o province della Toscana che fanno parte della stessa ASL. C'è anche un tendenziale equivoco, nel senso che a Pisa si sta parlando delle visite base, di primo livello, di alcune visite, non quelle che caratterizzano gli ospedali come ovviamente Cisanello, cioè le visite di secondo livello che non hanno assoluta limitazione per nessuno, sono aperte a tutti, anzi lo dicono i dati sull'attrazione, Cisanello è uno degli ospedali toscani che ha maggiore attrazione, sono tantissime le persone che non solo da altre parti della Toscana ma anche da fuori regione vengono. Lì si tratta di un percorso di abbattimento dei tempi di attesa, ogni ospedale ha come riferimento principale i cittadini residenti nel proprio bacino, quelli universitari e anche gli altri ospedali e su quello devono garantire il rispetto dei tempi. Poi ovviamente hanno liste aperte anche per tutti gli altri cittadini, quindi ogni cittadino dovrebbe avere il punto di riferimento nell'ospedale di residenza, perché sono visite base, non da ospedale universitario. Questo è il primo elemento a chiarire, perché si è detto ma allora gli ospedali universitari garantiscono le prestazioni solo per chi risiede in quella città, non è assolutamente così. Ovviamente la situazione è così da almeno il 2017, il 2016, il 2017, quindi non c'è nessun tipo di novità, se non per il fatto che con il Covid sono saltate molte liste d'attesa e quindi trovandosi la gente, liste chiuse da tante parti, cosa che non dovrebbe essere, ovviamente è venuto fuori anche questo che è un elemento semplicemente per garantire il rispetto dei tempi d'attesa e che si calcolano con i cittadini di riferimento dell'ospedale. Però non c'è nessun ospedale chiuso e noi speriamo, chiediamo alla Giunta, abbiamo già chiesto, il piano di abbattimento e liste d'attesa nelle prossime settimane possa produrre i propri effetti e superare anche queste strutture. Ma in questi anni l'azienda ospedaliere a Pisana si è comunque parametrata come un'azienda di eccellenza, cioè l'ospedale di Pisa non era l'ospedale del territorio di Pisa, ma un ospedale di eccellenza che avesse come minimo un respiro regionale, così come per alcune altre cose valeva per Careggi e per altre per le scotte di Siena. È evidente che questo tipo di decisione va nella direzione invece di ridurre comunque la prospettiva dell'azienda ospedaliere a Pisana che per noi deve continuare ad essere una prospettiva di grande respiro e quindi Pisa, Cisanello, il Nuovo Santa Chiara, essere comunque un centro di eccellenza e per essere tale evidentemente non può curare o prendersi cura e carico soltanto dei pazienti residenti nel Comune di Pisa. Da questo punto di vista ho presentato questa mattina un'interrogazione chiedendo se quella scelta è condivisa dall'assessore, è stata presa da chi, con quale atto e quando, perché di tutto questo non noi siamo assolutamente all'oscuro. Bilancio della solidarietà toscana al popolo ucraino parla il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Il popolo toscano in queste settimane, in questi mesi, si è dimostrato un popolo accogliente, solidale e anche questa iniziativa di Guardia di Città che è quella di devolvere il premio proprio a Regione Toscana questa iniziativa abbiamo messo in piedi per sostenere il popolo ucraino. Ad un'inaugurazione di una mostra qui in Palazzo la console degli Stati Uniti ha paragonato questa mostra che è il racconto dei soldati americani, italo-americani che hanno liberato il nostro Paese e i partigiani che hanno resistito a quello che sta accadendo in Ucraina. Lì c'è un grande momento di collettivo di resistenza e noi dobbiamo fare la nostra parte. La nostra parte la possiamo fare solamente con gesti di generosità e di accoglienza e di inclusione con i profughi che arrivano sul nostro territorio. Il premio Innovazione Toscana racconta le sue imprese in un nuovo ebook. Il primo ebook che raccoglie la storia di questo premio e lo vuole fare proprio per portare avanti anche tutte le imprese che sono state coinvolte da questa iniziativa in tutti questi anni perché raccontiamo l'iniziativa già dalla sua prima edizione del 2017 concentrandoci sull'ultima del 2021. Sono state tantissime le imprese che hanno partecipato in questi anni, siamo riusciti a portare alla luce oltre 220 progetti che raccontiamo all'interno di questo volume che ha il pregio di raccogliere le progettualità e anche le esperienze e le testimonianze dirette dei protagonisti di questo premio facendolo con numeri assolutamente molto importanti. È un ebook peraltro gratuito che si può scaricare anche dal sito del Consiglio regionale e di Confindustria Toscana e che appunto vuole raccogliere la storia di questo premio e anche delle tante imprese e start-up che partecipando e innovando con i loro progetti hanno contribuito a scrivere il futuro di questo territorio. Voglio mandare un messaggio alle ragazze e ai ragazzi più giovani, scommettete sul futuro, cercate di pensare qual è la traiettoria che il mondo sta prendendo e cercate di costruirci impresa, lavoro perché solo così noi possiamo lasciare ai nostri figli un futuro migliore. Il premio Innovazione va in questa direzione, l'ebook che oggi presentiamo va in questa direzione, un libro che vorrei potessimo portare nelle scuole per far capire alle ragazze e ai ragazzi più giovani quelli che oggi seguono la scuola secondaria superiore che solo credendo in se stessi ci si può fare e così possiamo costruire un futuro migliore. Per quanto riguarda il premio Innovazione, per quanto riguarda il Digital Innovation Lab, la Confindustria, soprattutto questo accordo che stiamo facendo, questa sinergia insieme alla regione, quindi pubblico e privato che si mette insieme per creare e stimolare i giovani, stimolare le start-up, ma non solo, ma anche le aziende stesse, ad avere nuovi progetti e nuovi prodotti e poi diventeranno nuovi prodotti futuri per il mercato è fondamentale, fondamentale per cercare di far capire ai giovani che si può fare innovazione in Italia, si può fare innovazione a Firenze, si può fare innovazione e creare aziende anche nei nostri territori. Ed è un progetto che ha l'obiettivo di eliminare il packaging monouso, quindi tutto ciò che è legato al cibo d'asporto, proponendo un contenitore riutilizzabile per l'asporto, quindi i nostri clienti sono ai ristoranti, affinché i clienti invece finali, quindi gli utenti finali, possono soffrire il servizio in maniera gratuita. Grazie a tutti!